e la gente se ne stava lì a fare in man bassa ma quale scopo? non funzionava più niente niente, niente, semplicemente la gente ha preso d'assalto tutti i negozi hai fatto la cosa giusta una situazione estrema porta a un'azione estrema ora io ne ho ragionati scusate no purtroppo facciamo una pausa grazie